Tra poco Sul canale 17 di Fano TV L'informazione locale Celebrato a Pesero il funerale di Giancarlo Morbidelli il genio delle moto presenti anche i sindaco Ricci con il gonfalone della città e i campioni da corsa dell'epoca Digestore anaerobico la maggioranza accelera l'iter per realizzare l'impianto a Fano e strapparlo ai privati che hanno già presentato invece un progetto per costruirlo a barchi la minoranza insorge A Ponte Sasso di Fano ad ogni mareggiata la strada viene invasa dalla sabbia adesso basta dicono i residenti è ora di intervenire A Pesero la posa della prima pietra per i nuovi cantieri navali dove verranno costruiti yacht di 50 metri Addio a Olga Valeri ex sindaco di Cartoceto aveva 55 anni ed era malata da tempo Inaugurato il nuovo spazio con da Fano Center il supermercato ha preso il posto della catena francese Oshan salvaguardati i posti di lavoro Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia andiamo subito a Pesero dove oggi pomeriggio si sono celebrati i funerali di Giancarlo Morbidelli il genio delle moto da competizione Tanta gente, tanta gente per tributargli l'ultimo saluto La chiesa del porto a Pesero non ce l'ha fatta a contenere tutta la folla che questo pomeriggio ha voluto tributare l'ultimo saluto ad uno dei mostri sacri del motociclismo nazionale e che ha recitato un ruolo da protagonista assoluto a livello mondiale Morbidelli se ne è andato lunedì scorso all'ospedale di Fano dopo una lunga malattia lui che ha lottato una vita con i suoi marchi e le sue moto contro i giganti del motociclismo mondiale spesso dettando legge questa gara invece non è riuscita a vincerla al suo funerale celebrato da Don Marco Franceschini sono arrivate oltre 400 persone da ogni parte d'Italia tutta gente legata al motociclismo e anche i campioni che hanno legato la loro carriera e i loro successi al marchio pesarese Eugenio Lazzarini tre volte ridato Mario Lega altro campione del mondo e l'ingegner Jorgen Müller che ricorda le notti insonni per battere con la 500 i cinesi di allora di lui amico anche di Enzo Ferrari tutti ricordano la semplicità e l'umiltà di quest'uomo innamorato dei motori e il suo l'auto umano che ha segnato profondamente ogni persona che ha lavorato con lui in momenti in cui era veramente difficile per la scarsessa di mezzi emergere ma che il suo genio invece ha saputo compensare anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci da sempre appassionato di motori non è voluto mancare al suo funerale toccante il ricordo del figlio Gianni ex pilota di Formula 1 con Ferrari Minardi Alfa Romeo che lo ha definito l'artista della meccanica Morbidelli è stato otto volte campione del mondo quattro come costruttore e altre quattro volte con i suoi piloti a cavallo delle sue moto nelle classi 125 e 250 anche Graziano Rossi papà di Valentino è stato un suo pilota nel 1979 proprio l'anno in cui nacque Valentino rimane però il dispiacere in molti appassionati per il suo immenso tesoro di moto purtroppo in parte volato in Inghilterra e custodito fino alla scorsa primavera nei locali che ospitarono la sua fabbrica e il reparto corse a Fanno il digestore anaerobico torna di strettissima attualità soprattutto dopo la notizia che a Barchi nel comune di Terre Roveresche una società privata ha già presentato il progetto per realizzarne uno una lotta dunque contro il tempo che ha spinto la maggioranza di centro-sinistra a presentare una mozione d'urgenza nel consiglio comunale di domani sera al fine proprio di accelerare l'iter ma l'opposizione di centro-destra si compatta e attacca l'esecutivo il digestore è tra gli argomenti che più di altri portano la temperatura tra le fazioni politiche al calor bianco tra una maggioranza al governo della città sindaco in testa che si è schierata tra i sì facciamolo Aset l'azienda di casa che vorrebbe realizzarlo ma che non ha ancora ricevuto indicazioni su dove e né quando ma che punta ai bei soldoni che gli entrerebbero in cassa per gli incentivi statali e le opposizioni che in linea teorica vedono sì il digestore anche in modo favorevole ma che dove ognuna per convinzioni differenti ha molti ma e moltissimi se per i tempi modalità ragioni politiche e manovre speculative sulla sua realizzazione poi c'è ovviamente il fronte del no deciso quelli del facciamo le barricate piuttosto che ma in tutto questo scenario tumultuoso nelle ultime 24 ore è arrivato un fulmine a Celsereno che ha fatto saltare dalla sedia tutte le opposizioni e che hanno disotterrato così l'ascia di guerra tutti insieme una mozione urgente per il consiglio comunale di domani 13 febbraio proprio sul tema del digestore anaerobico che vede la consigliera Carla Luzzi di Incomune come prima firmataria ma che sarà sottoscritta da tutta la maggioranza il tutto per accelerare i tempi del confronto pubblico a riguardo della fattibilità di questo progetto anziché aspettare il consiglio del 24 prossimo la cosa che ha dato la sveglia alla maggioranza sul digestore è stata la notizia recente che tra i due litiganti si è inserito un terzo che potrebbe banchettare se Aset rimane ancora ai nastri di partenza ovvero la Feronia SRL che vorrebbe farne uno nel comune di Barchi ma quello che ha anche fatto gridare allo scandalo oggi pomeriggio è il metodo usato dalla presidente del consiglio Carla Cecchetelli per accogliere la mozione urgente ha fatto questo piegando ancora una volta il regolamento proprio uso e consumo per questo che presenteremo insieme a tutta l'opposizione una proposta di revoca il fatto è ancora più grave soprattutto alla luce del fatto che non c'è stato lo stesso trattamento proprio sulla dichiarazione di urgenza di una mozione nei nostri confronti a novembre si trattava di una mozione per un'emergenza quella sì vera quella che coinvolge la situazione del liceo Nolfi e non c'è stata la stessa premura della presidente che in quell'occasione ci ha negato l'urgenza utilizzando un'interpretazione diversa del regolamento non esiste nessuna urgenza non è accaduto nulla che possa giustificare questa motivazione dell'urgenza qui è stato fatto soltanto una specie di atto di forza è un atto politico per cui la presidente del consiglio ha privilegiato la sua parte politica da cui lei proviene sì è una cosa veramente molto grave quella che abbiamo letto nella mozione che è stata presentata dalla maggioranza in quanto c'è scritto nero su bianco che l'investimento del digestore andrà così a cambiare gli equilibri dell'Atari tradotto cosa significa significa che questo investimento che noi come Lega da sempre abbiamo sostenuto non potersi reggere da solo andrà a essere spalmato sulla tassa dei rifiuti che pagheranno tutti i fanesi tutte le famiglie e tutte le aziende di Fano la mozione è stata condivisa con tutta la maggioranza era importante protocollarla entro una certa ora e un certo tempo un certo giorno per poi permettere a questa mozione di essere discussa nel prossimo consiglio comunale quello di domani è urgente perché ci sono delle novità assolute di cui siamo stati informati attraverso la provincia in un incontro che c'è stato due giorni fa e quindi è importante agire e dare gli strumenti per fare questo studio di fattibilità sui tre siti perché il privato è molto interessato anzi direi interessatissimo a gestire tutto il ciclo dei rifiuti fino a quello che noi parliamo quando parliamo di digestore anaerobico grave ed urgente quindi la considerazione alla base della mozione la presentazione in provincia del dossier per il digestore a barchi un privato che scippa ad un'azienda pubblica la possibilità di gestire un comparto così delicato come i rifiuti in particolare l'umido che rappresenta una notevole voce di costo per le amministrazioni fa venire l'orticaria ad una certa parte politica maggiormente di sinistra la quale dormirebbe certamente sonni più tranquilli se fosse il pubblico a mettere le mani in tasca ai cittadini quando si parla di tassa per i rifiuti perché poi in soldoni è di questo che si parla di costi e di ricavi che l'operazione comporta e di ricadute sulle economie familiari respinte al mittente quindi a distanza di poche ore da parte dei gruppi consigliari di maggioranza tutte le accuse sbandierate dalle opposizioni nessun aumento delle tariffe della Tari anzi se il comune dovesse pagare 120 euro a tonnellata lo smaltimento della frazione organica quello sì che farebbe aumentare le tariffe legittimità della mozione urgente quindi è metodo utilizzato corretto anche dalle opposizioni e niente quindi decisioni nelle segrete stanze ma bensì dialogo e confronto credo che si sia inestata una polemica credo strumentale nel senso che è previsto dal regolamento la possibilità di poter discutere mozioni urgenti è stato chiesto più volte dalla maggioranza discutere insieme all'opposizione la questione sul digestore per questioni di regolamento c'è stato detto che non era possibile anticipare in passato la mozione del centrodestra e alla luce dei nuovi elementi delle ultime ore abbiamo ritenuto utilizzare lo strumento previsto dal regolamento per poter anticipare e discutere di questa questione credo che interessi tutta la città riteniamo che su questa questione di gestore il tema deve essere dibattuto in consiglio comunale sindaco e giunta avrebbero potuto autonomamente procedere con un incarico ad Aset consentendo ad Aset di fare lo studio di fattibilità sui tre siti e invece noi abbiamo ritenuto che per questione di trasparenza la questione fosse discussa dibattuta in consiglio comunale di fronte a tutta la città senza doversi poi nascondere dietro ad altro ecco dunque allora questa è la situazione abbiamo ascoltato il centrodestra dunque la minoranza l'opposizione adesso il centrosinistra quindi la maggioranza ma sul tema del digestore anaerobico non dimentichiamoci che c'è anche un comitato che si batte per il no non capiamo perché fare tutte le cose così in segreto all'oscuro di tutti i cittadini facendo una mozione del resto della dubbia legittimità presentata dalla sera alla mattina con un'urgenza che non si capisce quale sarà l'urgenza di fare una mozione oggi e tra l'altro in grande contardizione con la commissione che è stata convocata che deve decidere sul referendum consultivo nel mentre questa commissione sta facendo i suoi lavori di studio sulla verifica appunto ammissione dell'acquisito referendario arriva una mozione che dice il contrario quindi di cattivo gusto verso tutti i componenti illustri della commissione che sta valutando il referendum è assolutamente dal mio punto di vista illegittima perché contraria a quello che sta appunto l'amministrazione facendo dal punto di vista amministrativo quindi noi pensiamo che il sindaco dovrebbe ritirarla per fare una cosa giusta e onesta nel caso il referendum fosse giudicato ammissibile due cose sarebbero in conflitto sono in completa contraddizione una con l'altra perché da una parte la commissione potrebbe dire si può fare il referendum e dall'altra l'amministrazione comunale il sindaco e i consiglieri comunali votano una cosa per dire non lo facciamo è chiaro la contraddizione e questo qui oltretutto si aggiunge a un fatto specifico il sindaco durante la campagna elettorale con i suoi video ha dichiarato che non si sarebbe mai realizzato un digestore anaerobico a bellocchi e falcinetto l'ha detto in campagna elettorale per prendere i voti l'ha portato fino alla fine adesso viene a dire ai cittadini che invece si farà un digestore anaerobico per questo era importante il referendum perché i cittadini devono dire la loro rispetto alla posizione che ha avuto prima della campagna elettorale il sindaco e che oggi che è contraria appunto e vuole il digestore anaerobico a bellocchi in buona sostanza perché non ci prendiamo in giro anche su questo la decisione l'ha già presa è chiaro la presentazione di urgenza la conferma adesso invece andiamo a Ponte Sasso di Fano dove in una strada a ridosso della spiaggia in un tratto in particolare ad ogni mareggiato ogni volta che c'è del maltempo del vento forte sulla strada si accumulano si accumula tanta sabbia rendendo difficoltoso il transito alle automobili e non solo vediamo Ponte Sasso la frazione di Fano ai confini con Mondolfo e Marotta non vuole sentirsi anche ai confini del mondo spesso i residenti hanno denunciato per svariate situazioni di sentirsi abbandonati a se stessi e di non avvertire la presenza del comune e delle istituzioni locali figli di un dio minore considerati solo in tempo di elezioni e poi nulla più questo è il loro percepito la situazione contingente che ha fatto riaprire questa antica e ormai infettata ferita tra loro recentemente è cosa di estrema praticità e quindi anche di facile e rapida soluzione ma proprio per questo visto l'immobilismo dell'amministrazione la cosa fa ancora più male il problema è sul lungomare fa di Bruno nel tratto che dai bagni Carmen arriva fino al confine tra i due comuni lungomare che in presenza di forti mareggiate o vento di burrasca come quello dei giorni scorsi viene letteralmente invaso dalla sabbia che forma grossi accumuli e ampie zone dove l'altezza della sabbia arriva anche a 30-40 centimetri cosa che crea disagi e pericolo per la circolazione con auto che non vedendo l'ostacolo e non potendo valutare la pericolosità rimangono impantanate come fossero in spiaggia cosa che puntualmente è anche accaduta davanti alle nostre telecamere o biciclette che non riescono a passare i 50-60 metri di manto sabbioso costringendo i ciclisti a scendere e camminare a piedi a fatica o ancor peggio motorini che perdono l'equilibrio e quindi possibilità di spiacevoli cadute sono giorni che gli abitanti hanno denunciato la cosa anche ad alcuni agenti della polizia locale che momentaneamente hanno messo del nastro per delimitare la zona e spostare il traffico su via Ammiraglio Cappellini ma anche questo è durato poco soprattutto non hanno visto nessun bobcat che sino ad oggi è comparso qui a pensare di portare via la sabbia in questo punto di alcune centinaia di metri basterebbero circa due ore di lavoro per ripristinare la situazione uno dei gestori delle concessioni balneari ha rimorchiato di sua sponte proprio nei giorni scorsi un'auto finita in panne una situazione che non deve verificarsi più non è contando sulla buona volontà dei cittadini ci dice il gestore che si amministra un territorio concludendo così l'amaro sfogo confidando per la soluzione nel più breve tempo possibile nel solerte comune di Mondolfo per essere diciamo così salvati dalle sabbie mobili e adesso invece a Pesaro dove questa mattina è stata posata tra virgolette la prima pietra per la realizzazione di due nuovi capannoni all'interno dei quali potranno essere costruiti yacht lunghi anche fino a 50 metri è un giorno molto importante per la storia del porto di Pesaro segna l'inizio della seconda fase del progetto di ristrutturazione del cantiere Rossini alla presenza delle autorità è avvenuta la cerimonia di posa della prima pietra dei nuovi capannoni del cantiere e la verniciatura degli yacht la struttura sarà completata entro la fine di luglio e sarà in grado di ospitare due yacht di 50 metri con un totale controllo della temperatura interna per garantire le migliori condizioni per le lavorazioni si tratta di un investimento che sfiora i 5 milioni di euro oggi appunto è l'avvio della costruzione che durerà sei mesi quindi per luglio contiamo di completare la struttura e i capannoni saranno operativi per ricevere le prime barche già a ottobre del 2020 cambierà molto perché fino adesso per pitturare o comunque mettere al coperto un'imbarcazione eravamo costretti a fare delle coperture con telli termorretraibili che erano soggetti ai temperi e ai danni causati dai venti forti con il capannone avremo la possibilità di lavorare in maniera continuativa 24 ore su 24 in un ambiente controllato i nuovi capannoni saranno costituiti da una struttura in legno lamellare e il materiale esterno in alluminio comportando una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 generate dal processo produttivo il cantiere Rossini attualmente ospita una decina di grandi yacht da 22 e 48 metri di lunghezza arrivati appositamente a Pesaro per effettuare lavori di manutenzione invernale effettuate dal personale del cantiere e da ditte specializzate quasi tutte provenienti dal territorio devo dire che la prima pietra di questo capannone rende davvero unica questa costruzione perché è un capannone di grande innovazione tecnologica ambientale e al tempo stesso con un design da museo si è spenta dopo una lunga malattia Olga Valeri conosciuta da tutti come amministratore pubblico ha ricoperto la carica di sindaco di Cartoceto dal 2009 al 2014 ma è stata anche assessore e vice sindaco fino al 2008 Olga Valeri tra le tante azioni a vantaggio della comunità avanta anche il gemellaggio storico al quale lavorò tanto tempo con una cittadina tedesca che gli valse anche la medaglia al merito di cui andava estremamente orgogliosa la Valeri che aveva 56 anni lascia il marito Giuliano e le figlie Daphne e Priscella l'esequio si terranno domani alle 15.30 nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie di Cartoceto dopo due settimane di chiusura forzata ha riaperto i battenti con un nuovo marchio il supermercato all'interno della galleria Fano Center dalla catena francese Auchan a quella italiana di Conan sono molti sono diversi motivi di emozione questa mattina intanto perché mi insegna che cambia un negozio che torna essere italiani o proprio italiani con insegni italiani questo però è un motivo di grande orgoglio una nuova avventura commerciale si è affacciata nella città di Fano da sabato mattina scorso nel centro commerciale Fano Center si è inaugurato il nuovo spazio Conad Viva! Taglio del nastro alle 9 della mattina con già i clienti che premevano i cancelli per entrare alla presenza di un emozionato e compatto personale dipendente che aveva non poche incognite sul loro futuro lavorativo fino a poche settimane fa e che invece ora riparte più motivato e carico di prima per questo cambio di realtà essendo stato confermato in blocco e che presto invece verrà anche potenziato nelle unità il gruppo Conad che fa del rapporto con la clientela fidelizzandola attraverso i cluster del marchio un fiore all'occhiello ha rafforzato così la sua presenza nel territorio il nostro è un sistema fatto da imprenditori che operano in cooperativa associati e quindi si danno la mano tutti in questa fase stiamo ogni settimana inaugurando uno o due punti vendita quindi è evidente che da soli non potremmo farcela per cui tutti i soci ci stanno aiutando e questa è una dimostrazione di grande unità di grande coesione che è la forza di Conad la gestione dello spazio Conad è affidata un consolidato gruppo di soci che già gestisce altri supermercati della catena e che quindi mette in campo non solo il cambio di filosofia aziendale ma anche tutta l'esperienza fino ad ora maturata nel settore per gli amanti degli animali abbiamo un nuovo formato che è quello del pesto e quindi con la possibilità di entrare anche con gli animali dentro questo negozio e poi la gastronomia che per noi è fondamentale gastronomia prodotta da materia prima che prima non trattavano e poi abbiamo carne prodotta da noi dai nostri macellai quindi sezionata tagliata prodotta internamente presenti al taglio del nastro preceduto dalla benedizione del vescovo Armando Trasarti anche le autorità pubbliche e politiche locali che nell'occupazione e nelle aziende che investono nel comprensorio fanese vedono sicuri segnali di ripresa dell'economia locale un ringraziamento sincero anche al sistema Conal per la scelta che hanno fatto per l'investimento perché non dimentichiamo che questi sono investimenti importanti che lasciano il segno che aiutano la nostra economia che portano lavoro ma che portano anche un valore sociale tornando a parlare un attimo del digestore anaerobico c'è il no assoluto alla realizzazione del digestore a barchi da parte del consigliere regionale di Italia Viva Federico Talè il quale riferendosi a questo impianto da 40.000 tonnellate progettato dalla Ferogna SRL nel territorio di Barchi siamo nel comune ripeto di terre roveresche dice si parla tanto di rivitalizzare i centri dell'entroterra di un modello di sviluppo sostenibile di piste ciclabili di aziende bio turismo e quant'altro e poi si progetta un simile impianto proprio in queste aree e le questioni sollevate da Federico Talè sul digestore a barchi sono sono tante e aggiunge diversi studi sugli impianti di digestione anaerobica dimostrano l'insorgenza di problemi relativi allo smaltimento dell'azoto e poi c'è l'aspetto del trasporto dei rifiuti e anche del gas che ne viene ricavato come si può pensare di ipotizzare la creazione di un pianto a servizio di tutta la provincia nel cuore dell'entroterra insomma Talè si dice contrario alla realizzazione di questo digestore a barchi e dunque staremo a vedere poi nelle prossime ore invece come andrà la questione a Fano prima di salutarci vi ricordo che domani domani 13 febbraio nella sala di rappresentanza della fondazione Cassa di Risparmio di Fano verrà presentato un libro sul carnevale dal titolo Genesi di un sogno è una pubblicazione nata da un'idea condivisa tra Francesca Piccinetti che è la curatrice del libro Daniele Mancini Palamoni che ha seguito il progetto grafico e Lario Gaggi che ha fornito le fotografie l'idea è quella di raccontare dalla viva voce dei carristi tutte le fasi di realizzazione del carro allegorico La Calunnia è un venticello dedicato a Gioacchino Rossini di cui vedete le immagini e questo libro appunto verrà presentato domani alle ore 17 e 30 nella sala della fondazione Cassa di Risparmio di Fano e adesso invece vi ricordo che l'odì prossimo alle 20.45 dopo il telegiornale andrà in onda Primo Cittadino e l'ospite sarà Enrico Rossi che è il sindaco di Cartoceto e tra poco per chi non è stato al giorno d'inaugurazione che è venuto qualche giorno fa a Fano Center vi trasmetteremo uno speciale dedicato a Spazio Coland grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti a Fano a Fano a Fano a Fano Grazie a tutti.